Sabato 20 gennaio, dalle 18 a mezzanotte, si svolge Sanità Tattà. È uno degli eventi più belli e più attesi dell'anno. È l'evento che chiude la nostra programmazione delle feste natalizie. Una manifestazione fatta soprattutto di musica in uno dei quartieri più popolari, più evocativi di Napoli, appunto la sanità. Saranno allestiti più palchi, ci saranno più concerti, oltre 70 artisti che si alterneranno. Quelle zone della città, da Piazza Sanità ai Vergini, alla Misericordiella, saranno piene di musica e anche di persone. Sarà possibile in quella lunga serata non solo ascoltare tanta buona musica, ma anche visitare alcuni dei riferimenti archeologici e culturali di quella zona, come per esempio l'antico acquedotto del Serino, come per esempio le catacombe di San Gennaro, e tante chiese e tanti luoghi appunto della cultura della nostra città. Quindi davvero noi siamo orgogliosi di aver organizzato, promosso e voluto e finanziato questo evento in collaborazione con la terza municipalità che insieme con noi l'ha organizzato per l'appunto.